Via l'andremo, super via, tu puoi. Vai! Fatto, deciso! Dai, fratto, che ci arrivi! Andiamo là! Bello, non fai saltare come un pollo! Dai, dai, Cristian, dai, Cristian! Vieni, vieni, presto, presto! Duca lì, eh! Bravo! Giro, giro così, veloce! Dai, piccolo! Dai, dai, è bello! Gioca, gioca! Dai, Paso! Fatto, Cristian! Più vicino, più vicino, più vicino! Dai, prestiamo, trussi, bene! Dai, Gallo! Gioca! Gioca! Allora il movimento! Ho detto prima! Non si sta fermi! Le punti si devono muovere! Dietro, bello! Dietro, bello! Dietro, bello! Dietro lui! Dietro lui devi essere! Bello! Dietro lui! Dietro lui! Dai! Vai, vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Che bene! Per domattina mi lasci... Andre! Fai il capo con Giuliano! Giuliano! Vieni qua! Vieni qua! Tu rimani lì a marcare! E vedono l'altro in mezzo! Oh! Per triangolare! Sì! 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 Cos'è successo ieri? Eh? Cos'è successo ieri? Sì! Gli ha parlato con... Abbonare! Sì! No, con... Oh, uomo! No, no, no! Sì! Puoi di parlare! Sì! Però... Qui in famiglia non voglio entrare in escursione come la no! Però qui no! Qui devi stare un attimino attento! Eh, ma... Vabbè, comunque... No! Bravo! Bravo, Lory! Bravo, Lory! Dai, dai, Giorgio! Bravo, Andre! Andre! Bravo, bella palla! Bravo, Andre! Ma... Sì che... Vai, vai! Cioè... Anche te te l'hai accorto per caso! È qualcosa... Un gol... Strano, proprio! Andiamo, Lory! Che ha segnato? Che ha segnato? Indietro, Lory! Indietro! Dai, Manuel! Il colpico! Il colpico! Bello! Bravo! Bravo! Dai! Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! Bravo, Lorenzo! Bravo, bravi! Piccolo! Bravo, dai! Piccolo! Dai! Dai! Dai, sveglia! Su! Dai, sveglia! Cambia, cambia! Non tutti! Non tutti! Non tutti! Non tutti! Non tutti! Sì! Top e sveglia! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Ciao, piccolo! Veloce! È bello! C'è fratto! Ah! Ballaccia! Bello! Avanti, Giuliano! Avanti, eh! Sì! 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 Dai, Gianlu! Dai, Gianlu! Luca, Juan! Bravo, piccolo! Scalico! Bravo, Luca! Guarda, vediamo meglio! Bravo, Manuel! Ancora, ancora, Manuel! Sì! 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 Luca, l'ho detto giovedì, eh! Sì! Sì! No! 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 Sì! Giro in giro! Giro in giro! Giro in giro! Giro in giro! Giuliano! Sì! Guarda che arriva in mezzo pronto! Guarda che arriva in mezzo pronto! si fratto fratto deciso movimento ancora indietro lori indietro fratto mettiamo giusta palla e la giochiamo non c'è l'arbitro ragazzi dai Manuel giocala mettila dietro sentrati fratto no è romano devo dire se Romano dice che non è angolo basta l'ha visto lui non ha ancora detto di bene e male è oggi e lo stibile ora 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 giù go go fatta c'è il Gioca, 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 piccolo, lo dà, piccolo, c'è lì sia libero, perché la devi prendere gli avanti Intervista bianca, gioca, 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 gioca oggi ora ha bisogno di pentire Raga, quando il nostro portiere invia, via, davanti al 6, Cristian, spazzo, c'è da lì. Gioco, gioco! Paso! Usa la testa, non sta la testa bassa! Guarda quello che fai! Di lì, due passi indietro! Dai, Lori! Giro, giro, largati, Billy! Dai, dai, dai! Preciso nei passi! Segnatene in mezzo! Emanuele! Dai, Uff! Raba tua, raba tua! Vai Gianluca, vai Gianluca! Sì, Emanuele, gioco, eh, Manuele! Allora, Manuel! Noi, noi, noi piccoli! Bravo! Emanuele! Cambia! Bravissimo! Ancora, ancora, tu sì! Solo uno! Dai, 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 Cristian, dai, Cristian! Metti il piede! Mandalo! Metti il piede! Dai, in mezzo! Dai, in mezzo! Marto, in mezzo! Ancora correttami così! Tu, Alessandro! Ma il quale? Mi conto a tornarti sul secondo! Ma lì, senza paura, eh! Billy, Billy, giù la palla e giochiamola! Dai, che ce la fai, Manu! Marto, non servi lì! Lascia uscire! Eh? Dai! Vieto, 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 vieto! Partiamo, piccolo! Piccolo! Partiamo e andiamo via! Centrocampo, Lori! Vai! Vai! Inferno e ricominci! Vai! Sali! Calma, gioco! In lì! In lì! In lì! Oh! Giochiamo! Sì! Loca! Gioca! 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 Vado a giudere! Vado a giudere! Vado a giudere! Vado! Dai dai, piccolo! Gioca! Emanuele! Luca! Bravo! S'è arrivato lì di te! Stiamo giocando bene, ragazzi. Noi, noi! Dobbiamo incuarlo! Bravo! Ancora, ancora Giuliano! Ancora! Guarda che si allarga! Vai Giuliano! Ok, guarda, guarda! 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 Un attimo! Luca! Sei arrivato fino lì! La palla devi prendere anche tu! Non puoi aspettare a vedere cosa fa lui! Eh! Dai! Dai! Prendi questa manurezza a fare! Chiudiamogli la! Chiudiamogli la Andrea! Dai! Gioca Manuel! Gioca! 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 Accentrati! Gol! Gol! Salvissimo Manuel! Sisto! Sisto! Bravo Manuel! Bravo! Bella balla! È bravo eh! Sì! Siamo tranquilli! Giochiamo sta balla! Sudo al suo! Luca in mezzo all'area! non voglio più vedere puntarla via prova Luca ti calcitando stai sulla linea ti calcitando Luca ti spesi in mezzo all'area Luca via da lì Luca l'ho detto un'altra volta sale Luca sali sali di testa Ratto è partito un quarto d'ora prima di te gioca 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 Andrea Ratto è partito un quarto d'ora prima dai uomini bravi dai sali 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 si Cristiano fate anticipare giù lo fa le gioca giù giù lo fa le gioca Giulio va bene bravi bravi vai ancora torna Cristiano tratto giù gioca gioca allora ma che bella che bella giù guiamo 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 la veloce presto guarda dietro andiamo di là bravo bravo dai dai pronto gioca gioca Andrea guiamo giù su sì gioca muoviti recupera ritrusi in piedi forza dai sistemiamoci adesso bello bello via da lì è lì in mezzo il 6 appoggia guarda dietro arriva arriva bravo 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 trussi vaga siamo chiusi oltre quando parte la palla non facciamoci anticipare pronto testa bravo allargati Giuliano allargati bravo vieni la chiamata dai Cristiano veloce dai no no metta paura stiamo di là stiamo di là veloce bravo 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 vieni là anche dietro scarico Manuel dai dai bravo Luca via 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 guarda il pallone non metterla sul fisico è più facile dai vai trussi che arriva vieni ancora basta bravo calma calma vaso sveglia vai vai toccato di piede metterla vai Emanuele a centro giro fora è fuori tu si bravo nota bravo caccia bene eh ce l'ha ce l'ha il tiro si ce l'ha è il tuo il sette Luca facendo le belle aperture là 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 liberati bello dai Lori giro Andrea giro Andrea bravo dai fratto dai fratto buona l'idea buono va bene va bene fratto dobbiamo fareci il gioco tutti i due gioco si mette l'altra palla Lollo guarda la palla non cercare sempre l'anticipo cercalo adesso quando la palla arriva alta si dai dai Lollo tu a Giuliano calma gioco senza paura non saltellare Luca Luca bravo 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 vieni 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 Manuel giocare sui compagni vedi Manuel giocare sui compagni Andre quando vado a casa vado a casa bravo Lori vado a via da lì vado a via da lì dai giochiamo non ci stacchiamo dai Lollo dai abbiamo fatto Lollo dai 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 ragazzi su dai vai bravo ancora premialo lori sistemiamoci lì in mezzo Tia è lì bello ancora lì sei davanti dai bravo Lori guarda ancora di testa Luca anche di testa senza paura allarga la braccia e salvi Manuel ora 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 dai 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 Luca allarghi le braccia e salti dai bello sei Sì, andiamo di là, andiamo di là adesso, appoggia, bravo, 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 va bene, va bene, ancora, ancora, raga, svegliatemi, la palla bisogna prenderla ogni tanto, sveglia, ancora, raga, non cerchiamo mai una volta di arrivare prima, guardiamo sempre cosa fanno loro, cerchiamo di arrivare sul pallone, dai arriviamoci, arrivaci, arrivaci, bravo, 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 bravo ancora, dai, ancora, ancora, dai Lollo, attacca, attacca, veloce, ferma, bianca, 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 piccolo, due secondi c'è la versione, lori, tirati su, dai che non hai niente, su, dai Lorenzo, dai Lorenzo, dai Lorenzo, dai Lorenzo, facciamo le decisioni, raga, ganchiamo una volta, il contrasto, il ritardo, va bene, fermare il gioco va bene, dai, dai, non guardiamo sempre cosa fanno loro, facciamo girargli più la palla, dai, non serve lì a corte, bravo, bravo, bene, bravo, bene, con una posse, e Tia, occhio, 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 no, vieni là, bravo, bene, ora verde, dai, raga, fa di grinta, Tia, fa di grinta, su, fatevi vedere, fa di grinta su quei palloni lì, dai, bravi, bravi, veniamo, dai, Ah, venite!